Arriva molto corto, però lavora bene e arriva in basso Procida, la strappa da Duram. Ecco, ricevere Procida può attaccare contro Mitoglu, che però è un buon difensore sul pallone. Esistation! Mezza le gambe per proteggere la palla e servire il compagno di squadra. Tiro da tre, il sorpasso sbagliato! Tratto Baldasso nel frattempo per la Forti Dudo, come è entrato anche Procida! Subito di forza, Gabriele! Per il numero sette, che gioca sul blocco, ribaltamento per Aradori, palla in angolo per Procida, che si spazia, tripla segno! Pietro Aradori, che qui concretizza anche il recupero difensivo, passaggio telefonato, perfetto l'assist, poi la grande virata di Gabriele! Si strappa, palleggio, arresto ed errore, addirittura un airball, questa volta per Benz, poi qua c'è un'indecisione tra due giocatori di Trieste! Doppiato, scarico per Perkins, palla per terra, si spazia contro Tote, errore, ancora che spazio, rimbalza! Ancora Uglietti a mettere pressione su Turam, palla in angolo per Procida, step back, gran canestro da tre! Capo, nonostante i due falli, gli ultimi cinque secondi, strappa però di mano la palla Procida, va a schiacciare dall'altra parte! Un sogno di trovare con me, è sicuramente una buona idea, ci pensa su due volte, palla per Procida! Step back di Procida, che trova il canestro del pareggio! Presa in solitaria, ora Turam per Procida, la virata contro Turuto, bello scarico per Grosselle! Radori, Taccadon, poi nell'angolo la palla per Procida, da tre punti, a segno! Incandescenza, Radori vorrebbe prendersi il fallo in attacco, non ce n'è bisogno perché Procida concretizza il recupero alle Iupo! Aralapoblosi! Il proprio centro che va a scambiare con Procida, che attacca sul lato, la pinta contro Gaspato, poi si buca indietro, viene a svincamento! Mottero un po' in testa anche in attacco, Procida, step back, altro tiro da tre per la Portiludo! Il corso dell'anno dove sembrava praticamente essere già stato tagliato, poi è stato confermato e ha comunque aumentato! Rimane per seduto anche Gerian Grant, ha servito Shields a spazio per andare su Procida! Spettacolare e si prende una mandata a quel paese da parte del proprio allenatore, Procida, che schiacciata! Rimazzo difensivo, ancora cercato l'ex Cantulino, si apre la corccia centrale, Procida si infila! Si allarga la forbice, il divario, Procida ha spazio, arresto e tiro da tre punti, canestro di Gabriele, Procida! Due insider che te lo negano! Procida prova la penetrazione, anche lui è un grande atleta, arriva fino in fondo! Ma Mascolo scivola però, centro aria, può dare il contropiede della Forti Dudo, palla alzata! Allora, transizione per Bologna, Procida attacca, va con l'arresto a un tempo! Vedere un campione del suo calibro nel nostro campionato, mentre Frazier trova Procida, perso sul perimetro, si alza e spara! Chiede a Duram di aspettare, un po' prima di attaccare, alla fine invece però Duram cede il pallone a Procida, due punti rapidi! Cerca lo scarico, ma va nelle mani di Frazier, anziché in quelle di Stone, Procida! Qui, va bene partenza in velocità!